Il Magic Cooker è un rivoluzionario ottimizzatore di cottura, che si distingue per il suo design innovativo. Un coperchio dotato di fori speciali, coperti da una calotta, separata da un elemento in plastica. Realizzato in acciaio 1810, il materiale più pregiato disponibile sul mercato, che garantisce durabilità e qualità superiore. Orgogliosamente prodotto nel nostro stabilimento di Latina, Italia, il Magic Cooker incarna l'eccellenza della manifattura italiana. Questo strumento culinario si avvale dell'effetto Venturi, un principio fisico che ottimizza la cottura tramite la conversione delle particelle d'acqua in vapore. Questa tecnica permette al Magic Cooker di offrire versatilità in cucina senza pari, consentendo di lessare, cuocere a vapore, friggere, arrostire, brasare, stufare, infornare. Grazie alla sua concezione universale, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di pentola disponibile sul mercato, eliminando la necessità di pentole specifiche. Il Magic Cooker è un investimento per la vita, garantito a vita contro la ruggine, grazie alla sua composizione non elettrica e non meccanica che lo rende immune da guasti. L'utilizzo del Magic Cooker trasforma l'esperienza culinaria permettendo di esaltare i sapori dei cibi, ridurre i tempi di cottura, ottenere un significativo risparmio energetico, godere di una facilità di utilizzo senza precedenti, preparare i cibi più morbidi e succosi, eliminare fino al 90% dei cattivi odori durante la cottura. La straordinaria accoglienza del mercato con milioni di pezzi venduti testimonia la validità e l'efficacia del Magic Cooker. Questo strumento non è semplicemente un accessorio da cucina, ma un vero e proprio alleato per chi desidera elevare la propria arte culinaria, garantendo risultati eccellenti in modo semplice ed efficiente. Grazie a tutti.